Sono Alessandro Ciceri, titolare del pub al confine di Milano in Viale Conezzuni a 59 e sono un cliente Casberg soddisfatto. Buongiorno a tutti, sono Francesco Riccio, titolare di Autentico, gusto napoletano, una pizzeria che si trova nella Piano Gentile e sono un cliente Casberg molto soddisfatto. Sicuramente i benefici sono molteplici. Quello che ormai più di dieci anni fa mi ha fatto scegliere di cambiare il sistema è stata sicuramente la capacità che ha questo impianto di mantenere una qualità del prodotto molto più a lungo del tempo. Mi spiego meglio, un fusto tradizionale in acciaio ha bisogno di essere innestato dal CO2 per poter essere spinto dal fusto alla spillatrice e questo procedimento comincia a far deteriorare il prodotto molto più velocemente rispetto ad un impianto modular che non ha bisogno del CO2 per salire fino alla spillatrice ma semplicemente viene spinto da una pressione pneumatica. Questo fa sì che un fusto abbia una vita molto più lunga. Un fusto tradizionale dopo quattro, cinque, sei giorni massimo perde le sue proprietà organolettiche mentre un fusto in PET e quindi quello modular può durare anche fino a 30 giorni quindi il vantaggio è sostanziale. Io posso avere un'offerta di birra molto superiore a quella che avevo in fusti tradizionali e questo è un grande vantaggio. Beh, ho registrato un notevole aumento della vendita di birra in particolar modo delle birre speciali. Infatti il grosso vantaggio di questo impianto è quello di ridurre al minimo gli sprechi con i fusti che hanno una durata di circa 30 giorni una volta inseriti nell'impianto quindi c'è modo di avere un consumo della birra senza rischiare di che vada male. Oltre ai vantaggi che ho elencato prima sicuramente avere l'impianto Dreadmaster ha un grosso vantaggio in termini di gestione di autonomia. Io posso scegliere quando fare il lavaggio, come intervenire e soprattutto grazie alla telemetria io posso sapere esattamente quando devo fare un ordine perché il sistema mi dice quando stanno finendo determinati prodotti, quando c'è bisogno di ordinarli. Quindi sì, è molto più facile da gestire. Lo consiglierei perché è un sistema pratico che ti permette di ridurre al minimo gli sprechi. Sicuramente l'aggettivo che mi viene in mente è la praticità, quindi è un sistema molto pratico, molto semplice da usare, alla portata di chiunque che può ampliare la gamma di prodotti da poter offrire ai propri clienti. Innovativo, dico innovativo perché a differenza del tradizionale sistema con i fusti d'acciaio questo non impiega gas CO2 e quindi il gusto della birra rimane inalterato e fa la differenza.